L'inchiesta Croci del Silaro apre degli scenari che da anni come fondazione denunciamo con forza, riferendoci al più ampio sistema cilento. Sono le parole del presidente della fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo, che continua, è inascoltata la richiesta di scioglimento della minoranza del comune di Capaccio Pestum, la comunità pestana ha il diritto di non essere accostata a metodi malavitosi. La procura intervenga per chiarire la posizione del consiglio comunale di Capaccio Pestum, continua Vassallo. Sono inascoltate le richieste di scioglimento presentate dai consiglieri di minoranza durante l'ultima assise consigliare. Lo scontro in consiglio e le parole forti dell'opposizione sono allarmanti. Non si può rimanere in silenzio, né è possibile continuare a nascondersi. A fronte di tale richiesta, una posizione di arroganza del primo cittadino che sottolinea nessuna volontà di dimissioni o di scioglimento dell'ente. Anzi, chiediamo alla magistratura, prosegue Dario Vassallo, di concentrare le indagini proprio sulle parole pronunciate dal primo cittadino durante la seduta comunale e i suoi toni della comunicazione. Lo so, faccio collezione di interrogazioni ed esposti che puntualmente si infrangono negli archivi parlamentari e della Procura della Repubblica. Sarebbe troppo bello per voi sciogliere questo consiglio comunale. Lo capisco bene, ma mi dispiace. Potete solo continuare a sognare perché noi andremo avanti. Il vostro sogno di scioglimento di questo consesso con le firme dal notaio è fallito. Quello che invocate oggi è pura follia. Quindi rassegnatevi e poi, anche se andiamo a votare, l'esito sarà sempre lo stesso. Perderanno solo tempo. Un consiglio comunale in cui una consigliera comunale è coinvolta in un'inchiesta mentre un funzionario è indagato in un concorso truccato. Dovrebbe fare autocritica e cercare la verità. Questo nel rispetto di una comunità operosa e per bene abituata al lavoro duro e al sacrificio. Quella di Capaccio Pestum che rivendica di non essere accostata a metodi malavitosi. Infine conclude Vassallo. La fondazione, nata in onore di Angelo, il sindaco pescatore, assassinato da una mano ancora oggi occulta per difendere il territorio dall'illegalità, si batterà sempre per la verità e per trasmettere i principi di Angelo Vassallo ai giovani contro ogni forma di criminalità. Uno Stato che non riesce ad assicurare giustizia è uno Stato che abdica alla sua funzione.